Buonasera, buonasera da Onda Tg in primo piano. Il centro storico di Sulmona. La Confcommercio propone l'adozione della cedolare secca per far respirare le attività commerciali. Sabato scorso l'incontro con il commissario prefettizio Giuseppe Guetta. Sentiamo i particolari. Una cedolare secca per tentare di uscire dalla crisi riducendo gli affitti e le attività commerciali del centro storico di Sulmona. La proposta è stata lanciata nei giorni scorsi da Confcommercio nel corso di un incontro con il commissario prefettizio Giuseppe Guetta. Attraverso una convenzione recentemente sottoscritta tra il presidente nazionale dell'Anci, Piero Fassino, e il presidente nazionale Confcommercio, Carlo Sangalli, Sulmona potrà essere inserita tra le pochissime città italiane, circa una ventina tra le quali l'Aquila, Venezia, Torino, Palermo, in cui verrà sperimentata l'applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione degli immobili a destinazione commerciale, opportunità quest'ultima che inciderà sulla riduzione dei livelli degli affitti dei negozi, soprattutto nel centro storico, spiegano il direttore di Confcommercio, Celso Cioni, e il presidente Roberto Donatelli. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di un progetto di rigenerazione urbana e di rilancio delle attività commerciali, in modo particolare nel centro storico, che sarà presentato nei prossimi giorni ai candidati sindaci. Un ultimo argomento sottoposto all'attenzione di Guetta riguarda la questione del prolungamento della durata della giostra cavaleresca, che, a detta di Confcommercio, creerebbe problemi per il mercato che si svolge su aree pubbliche in Piazza Caribaldi. La Confcommercio ritiene utile e necessario un incontro pubblico costruttivo, promosso da tutte le associazioni di categoria e gli operatori del settore, per individuare una lucida condivisione democratica, il percorso migliore che eviti al massimo i disagi per le attività ambulanti in una fase stagnante dei consumi e in un momento così difficile per le piccole aziende del settore. La cronaca, beccato in possesso di sostanze stupefacenti, prende a calce e pugni i carabinieri per evitare l'arresto, si aprono le porte del carcere per un 21enne albanese arrestato sabato notte a Pratola Peligna. Sentiamo nel servizio. Beccato in possesso di piccole dosi di sostanza stupefacente, prende a calce e pugni i militari. Un 21enne albanese è stato arrestato la scorsa notte a Pratola Peligna, dai carabinieri del luogo e dal nucleo operativo della compagnia di Sulmone. Nel corso di un normale servizio di osservazione, pedinamento e controllo, i militari operanti hanno notato che il giovane, mentre era in compagnia di altre tre persone a bordo di una tua vettura, è entrato nella propria abitazione ed è uscito subito dopo, presumibilmente per prelevare la sostanza stupefacente. A quel punto è stato fermato dai carabinieri e, tentando forzennatamente di fuggire, ha colpito i militari con calci e pugni. È stato in seguito bloccato e trovato in possesso di singole dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish, nonché della somma di 700 euro in contanti in banconote da piccolo taglio. La perquisizione, estesa anche l'abitazione del giovane, ha consentito ai carabinieri di recuperare ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, circa 60 grammi di cocaina e oggetti donnei al confezionamento, quali bilancino di precisione, ritalli di carta, bicarbonato e mannite. Il 21enne è stato tradotto nel carcere di Sulmona. E la cronaca ora ci porta proprio a Sulmona. Un'auto si ribalta in via Zappannotte e finisce contro un palo dell'illuminazione pubblica. I carabinieri denunciano il conducente per guida in stato di ebrezza. Perde il controllo del suo veicolo, urtando contro il palo dell'illuminazione pubblica e si ribalta. È accaduto a un 19enne della zona che è stato denunciato dai militari della liquota radiomobile della compagnia dei carabinieri di Sulmona per guida in stato di ebrezza. Il loro cambolesco incidente si è verificato fra la notte di sabato e domenica in via Zappannotte a Sulmona. Il bilancio dello scontro è di quattro feriti. A bordo della Matiz, guidata dal giovane, c'erano anche due ragazzi e una ragazza. Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non desterebbero preoccupazioni. Stando a quanto riferito dai carabinieri, il conducente è stato sottoposto ad accertamenti urgenti, mediante prelievo ematico per alcolemia ed è risultato con un tasso alcolico eccedente la norma. Subito è scattato il ritiro della patente di guida, oltre al deferimento alla procura della Repubblica di Sulmona. Ci spostiamo a Prato-La Peligna. Il comune trasloca e si trasferisce provvisoriamente nella sede dell'ex giudice di pace. A breve aprirà il cantiere per i lavori di adeguamento sismico nella sede municipale. Facciamo il punto nel servizio. Stanno per partire lavori di adeguamento sismico della sede municipale di Prato-La Peligna. Il cantiere dovrebbe aprire a giorni e il municipio è stato trasferito temporaneamente presso l'edificio dell'ex giudice di pace. E l'ennesima procedura di messa in sicurezza che poniamo in essere come amministrazione comunale, rimarca il sindaco di Prato-La Peligna, Antonio De Crescentis. Con molta soddisfazione e dovendo dire grazie a tutti gli uffici che hanno collaborato con tanta buona volontà, anche con tanta professionalità, a questo importante intervento. Il primo cittadino spiega che l'adeguamento sismico della sede comunale è stato possibile grazie a un bando vinto dal comune che ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro. I lavori, che dovrebbero durare meno di un anno, hanno un costo complessivo di un milione e cento mila euro, considerando anche la somma stanziata dalle casse comunali. Riusciamo a garantire un altro edificio pubblico strategico antisismico. Questa era un'opera di prevenzione sismica che prevedeva una serie di interventi, l'asilo nido, la scuola, quindi il nuovo polo scolastico, per cui abbiamo già avviato le procedure di aggiudicazione per la progettazione, è un momento importante anche quello. E adesso abbiamo fatto il traslogo e quindi ci troviamo in una sede provvisoria, sperando che questo non arreghi disagi ai nostri cittadini, perché noi lavoriamo per loro bene e quindi per oggi abbiamo aperto questo nuovo municipio in via provvisoria. Poi a giorni inizieranno i lavori presso l'edificio comunale. Torniamo a Sulmona per parlare di via Topanisco, una strada davvero pericolosa. Arrivano numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Ci fa il punto che danno Trigiglio. Alcuni residenti in località Tratturo a Sulmona ci hanno segnalato la pericolosità di una strada. Si tratta di via Topanisco, che è una traversa di via Tratturo. Ci siamo recati in zona con la nostra telecamera ed abbiamo constatato che effettivamente via Topanisco presenta una pericolosità notevole. Una parte della via che affaccia direttamente sulla sede ferroviaria, tratta Pescara-Roma, non ha alcuna protezione. Né un muretto, né un guardrail. Se qualche automobilista o motociclista o anche un ciclista esce di strada, finisce direttamente sui binari della ferrovia, precipitando da un'altezza di 20-25 metri. I residenti ci dicono che quel tratto di strada, prima, in qualche modo, era protetto da numerosi alberi sul ciclio della strada stessa. Poi, recentemente, gli alberi sono stati tagliati e non c'è più un minimo ostacolo tra la strada e la sede ferroviaria. Le immagini sono eloquenti. È vero, si tratta di una strada secondaria, ma le auto transitano, la zona è abitata e serve anche per raggiungere la località Torrone. Ci sono delle curve che immettono direttamente sul tratto non protetto. La pericolosità, ovviamente, è più grave di notte. Non vogliamo pensare che un incidente possa verificarsi proprio al passaggio di un convoglio, con conseguenze imprevedibili. È bene che chi ha la responsabilità della sicurezza di quelle strade, provveda e provveda subito. Basterebbe, infatti, installare un guardrail per eliminare ogni pericolo. E ora facciamo il bilancio dei saldi della stagione invernale. I commercianti non esultano vendite poco battenti, dicono al nostro sondaggio. Sentiamo. Lei ha fatto acquisti ai saldi ultimamente? No, in realtà no. Però io compro direttamente online. Quindi i saldi li prendo direttamente in continuazione. I siti come Dalai, Amazon, 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 Baby. Il bilancio è più o meno in linea con quelli che sono gli andamenti dell'economia generale. Quindi la congiuntura è particolare e quindi anche i saldi hanno risentito di questo andamento. Sicuramente poteva andare meglio, però non è stata una vendita particolarmente battente. Eccetto i primi giorni poi piano piano si è allineata, ripeto, gli andamenti in generale. La gente compra nel momento del bisogno, senza far caso ultimamente alle offerte vantaggiose dei saldi. E quanto è venuto fuori nel sondaggio di Onda Tg, dove gli esercenti del capologo Peligno hanno tracciato il bilancio della stagione invernale 2016 dei saldi, incominciata lo scorso 5 gennaio. Non è stata una vendita particolarmente battente. Non a caso i nostri microfoni i commercianti non esultano, ma come al solito, si rimboccano le mani che vanno avanti nonostante il momento difficile. Poteva andare meglio, spiegano Onda Tg, sottolineando come il bilancio rispecchia molto l'andamento dell'economia in generale. Solo nei primi giorni si è verificato un picco delle vendite, poi tutto è rientrato nella normalità, aggiungono gli esercenti. L'appello dei commercianti ai sulmonesi è sempre lo stesso. Quando comprate qualsiasi prodotto, concludono, scegliete il nostro territorio. Siamo arrivati al termine, non ci lamentiamo, poteva andare meglio. L'appello è sempre quello ai sulmonesi di valorizzare comunque le attività del territorio. Non penso che siano andati un granché, visto che l'affluenza qui è sul mondo è veramente scarsa. Nella stessa stagione non ho acquistato alcun capo durante i saldi, perché non ne avevo proprio bisogno. Quindi ora la gente compra quanto ha bisogno? Beh sì, con questo brutto periodo di crisi si acquistano i capi soltanto quando veramente ne avevo bisogno, non prima. In realtà ho notato che la gente compra relativamente durante i saldi, nel senso che ormai è abituata a comprare quando ha bisogno. Lo studio della qualità dell'aria sarà al centro del terzo congresso medico nazionale città di Sulmona, che si svolgerà l'8 e il 9 aprile nel capoluogo Peligno. Sentiamo i particolari. Oltre 150 professionisti attesi a Sulmona per il terzo congresso medico nazionale, che si svolgerà l'8 e il 9 aprile nei locali del centro pastorale diocesano. Il filo conduttore di questa edizione sarà lo studio della qualità dell'aria, che sarà reso noto da Tommaso Pagliani, già responsabile dell'istituto Mario Negri Sud. Si tratta di un progetto pilota, annunciato il medico Maurizio Proietti, che sarà esportato per tutte le altre città. Sullo studio della qualità dell'aria, capoluogo Peligno ambisce a diventare capitale dell'ambiente e della salute. La novità è che in sede congressuale presenterà delle novità, saranno anteprime nazionali e quindi dal congresso di Sulmona probabilmente, anzi sicuramente usciranno le linee guida anche per le altre città afflitte dallo stesso problema. Il congresso quest'anno sarà steso alla cittadinanza. Intendiamo allargare i temi dell'ambiente e della sostenibilità a tutti, ha esordito il presidente dell'Associazione Alba, Franco Fagnani. Le novità di questa edizione sono innanzitutto che il congresso quest'anno è aperto a tutti e in questo riprendiamo proprio un auspicio che fece il presidente della Federazione degli Ordei dei Medici, il senatore Bianco, nella prima edizione, che chiedeva che la professione medica e quindi le tematiche ambientali venissero allargate non solo agli addetti ai lavori, ma a tutte le figure e alla popolazione in generale in quanto interessati e coinvolti dal problema. Siamo sempre in prima linea con eventi importanti come questo, ha aggiunto Domenico Taglieri, vicepresidente della fondazione Carispac, e siamo contenti che quest'anno il congresso scientifico sia aperto a tutti. Io ci tengo a ribadire la mia presenza, non solo come fondazione della Cassa di Risparmio, ma anche come persona vicina alle iniziative che vengono prese dalla città. Nella regione di congresso interverranno fra gli altri, oltre a Fagnani e Proietti, il vescovo di Smonavalo e Angelo Spina, l'arcivescovo di Chiedivasto, Bruno Forte, Nicoletta Proietti, componente del Consiglio Direttivo Alba. Sul Monna diventa il capofila di un messaggio che poi si deve allargare al territorio italiano. E sarò proprio Monsignor Spina a ricordare l'importanza di tutelare il territorio e di valorizzarlo, perché non ci può essere etica dell'uomo senza etica dell'ambiente. Nella due giorni saranno coinvolte anche le scuole, perché, ha ricordato il medico Marizio Cacchioni, i giovani sono il nostro futuro. Con il dottor Proietti abbiamo organizzato queste giornate per la diffusione della cultura ambientale nelle scuole. Sono giornate che abbiamo già svolto qualche anno fa nel liceo classico, con il professore di igiene ambientale dell'Università dell'Aquila, e che quest'anno invece riproporremo con l'Università di Chiedi. Strapieno il Cinema Pacifico di Sul Monna per il concerto a favore dell'Associazione Aseo. Gaetano Trigilio nel servizio. La sala del Cinema Teatro Pacifico è affollata, gente in piedi, molti non sono riusciti ad entrare. La città è risposta alla grande, all'invito dell'Aseo. L'Associazione Oncologica e Dematologica è un ente morale, senza fini di lucro, ma persegue finalità di notevole rilevanza umana e sociale, quali la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie oncologiche, l'assistenza ai pazienti e ai loro familiari. Il concerto aveva lo scopo appunto di raccogliere fondi per l'attività dell'Associazione. Abbiamo ascoltato la scuola popolare di musica di Sul Monna, diretta dal maestro Walter Matticoli, ospiti d'onore il maestro Gaetano Di Bacco e il duo Francesco Mammola e Lino Giusti. Bello e ben articolato il concerto, con musiche da film e molto altro. Lo spettacolo è stato ben condotto da Angelo Merola. Particolari applausi il pubblico ha dedicato a Francesco Mammola, certamente un vero talento del nostro territorio. Intanto nella mattinata, opportunamente, gli organizzatori hanno invitato la banda di Introdacqua a pubblicizzare l'evento. La banda si è soffermata nelle strade e nelle piazze cittadine, seguendo brani del proprio repertorio. Brevi gli interventi intervallati nel concerto. Il pubblico ha molto gradito il concerto, attributando agli artisti ripetuti applausi. Che si è soffermata nelle strade e nelle piazze cittadine. che è sempre ben accetta, la finalità sono alte, per cui l'orchestra si presta sempre quando c'è da dare una mano per aiutare qualcuno. Questa sera mi sembra che abbiamo avuto una dimostrazione della sensibilità della città di Sulmona a questa parola. Abbiamo avuto un cinema pieno, la gente, l'avete visto, è dovuta andare via perché non c'era più spazio. La prossima volta cercheremo di darglielo questo spazio, ma come prima iniziativa è bene che noi abbiamo saggiato un po' il terreno, come si suol dire, e abbiamo notata una grande vicinanza alle iniziative delle associazioni del volontariato. Sarà questo l'argomento della nostra rubrica di approfondimento al termine del Tg. Un successone anche per l'evento di Crea Donna, le eccellenze femminili si sono raccontate sabato sera a Prato La Peligna. Vediamo. Una sorta di open day al femminile per attribuire la giusta riconoscenza alle tante donne che ogni giorno si prodigano per la crescita e lo sviluppo del territorio nei settori della moda, economia, salute e volontariato, cultura, teatro, imprenditoria e sport. Crea Donna conferma il suo successo annuale, racconta la storia di otto donne che hanno sempre la ricetta pronta per costruire un avvenire migliore. Straordinario successo di pubblico nella giornata inaugurale che si è svolta sabato scorso a Palazzo Colella. Maria Assunta Rossi, Rossella D'Angelo, Cinzia Cinotti, Barbara Trafficante, Fulvia Pace, Velia Di Bacco, Annalisa Di Ruscio e Caterina Fantauzzi hanno raccontato le loro storie di fronte alla madrina dell'evento Imperia Liberatore e un numeroso pubblico. Un riconoscimento è arrivato anche per Ida Basile. In effetti il ruolo della donna negli ultimi decenni è cambiato in maniera sensibile, però c'è da rimarcare che la società va in continua evoluzione e che questa evoluzione deve riguardare tutte le donne, quelle donne che vogliono raggiungere l'obiettivo e che hanno ancora tanta strada da percorrere. È stato un confronto particolarmente interessante. Prato l'è soddisfatta di avere queste donne che per noi sono un modello che spingono a darsi da fare nella società di oggi, ha sottolineato Liberatore. Abbiamo appunto voluto premiare delle eccellenze femminili locali, delle donne veramente forti che ci hanno raccontato come si sono costruite quelle che sono oggi e hanno dato importantissimi consigli alle tantissime donne che si sono presentate quest'oggi, donne e anche uomini ad ascoltare. La manifestazione è stata organizzata dalla Proloco di Prato La Peligna, dei volontari del servizio civile con la collaborazione della Horizon Service di Sulmona, della piattaforma delle idee di Prato La Peligna e del Rotary Club di Sulmona. Soddisfatti tutti gli organizzatori, c'è riempire d'orgoglio vedere riunite in una stanza delle eccellenze femminili che sono di tutto il territorio, rimarca Mattia Tedeschi della piattaforma delle idee. La piattaforma delle idee, ma soprattutto gli altri organizzatori, la Proloco e c'è, ci ha riempire d'orgoglio vedere delle eccellenze femminili riunite in una stanza qui a Pratola, delle eccellenze femminili che però sono di tutto il territorio. Salvatore Presutti, giovane del servizio civile, ha ringraziato il comune di Prato La Peligna e la locale Proloco, poiché sostiene ancora una volta hanno formato un binomio vincente. Pratola è portatrice sana di talento e noi abbiamo voluto omaggiare, abbiamo voluto rappresentare al meglio e più possibile la donna in tutte le sue sfaccettature. Domani 8 marzo la giornata dedicata alla donna, vediamo quali sono gli appuntamenti in programma in Valle Peligna. Mancano una manciata di ore alla giornata dedicata alle donne, come al solito in programma ci sono eventi e iniziative per celebrare l'8 marzo. Il ruolo delle donne nella società e il loro contributo nell'emancipazione culturale, sociale e politica del Paese saranno i temi della conferenza Il Cuore, la Forza, il Coraggio, la storia femminile promossa dall'Associazione La Diosa. La manifestazione si terrà domani presso la sala conferenza della comunità montana Peligna in Via Angeloni con inizio alle ore 17. A raccontare le storie, i sentimenti e le passioni delle donne sarà lo storico e studioso Lando Sciuba, già autore di opere dedicate allo studio delle comunità locali e degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale sul territorio. Nel corso della serata saranno letti testimonianze, brani tratti da testi autobiografici e da racconti sulle vicende che hanno visto protagonista le donne abruzzesi. Entro d'acqua cresce l'attesa per l'evento Il Bello e Donna, promosso dall'amministrazione comunale e curato dalla consigliera Lara Susi. L'obiettivo è quello di valorizzare l'importante contributo offerto dalle donne in molti settori, dall'ambito culturale a quello sociale, ma anche politico, professionale e artistico. Il programma ricco e corposo vedrà come protagoniste donne attive nel territorio che interverranno per trasmettere le proprie conoscenze e esperienze a un pubblico che sarà chiamato a interagire con loro. Saranno presenti Antonietta Santa Venere e Mariangela Perna, che cureranno una piattaforma sulla prevenzione della violenza sulle donne e la loro tutela. Licea Vanacore con una dimostrazione di riciclo ricreativo, Caterina Palmucci, che offrirà una performance dimostrativa sull'autoproduzione di creme e unguenti, e Margherita Ruscitti, che spiegherà gli effetti benefici degli infusi. A Prato La Peligna prosegue intanto la mostra di decoupage, bigiotteria, pittura e scultura, cucito, ricamo e disegno, aperta sabato scorso con l'evento Crea Donna. Sarà presentato domani alle ore 10.30 presso l'auditorium dell'Agenzia di Promozione Culturale a Sulmona, il testo Giovani Voci 4, frutto di un lavoro di lettura e scrittura che ha visto protagonisti gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Educare alla solidarietà e alla cittadinanza attiva l'elefante imprigionato, e questo è il filo conduttore del progetto promosso per il quarto anno consecutivo dall'Associazione Voci e Scrittura, in collaborazione con l'Agenzia di Promozione Culturale di Sulmona, la Fondazione Carispa che è il CSV della provincia dell'Aquila. Nel corso della presentazione interverranno le docenti Alessandra Carugno e Filomena Monaco, nonché gli studenti con letture intermezzi musicali e interviste. E ora apriamo la pagina sportiva con il calcio, campionato di promozione Gironea, tornano al successo i Nero Stellati con due gol nell'ultimo quarto d'ora. Antonio Cassasanta. Torna alla vittoria il Pratola che batte con il più classico dei punteggi, il Torsicia, con un finale di gara molto bello, con un gol su rigore di Palombizio e raddoppio di Dionisi. È stata una gara difficile da parte dei Nero Stellati, al di là del 2-0 finale, nell'ultimo quarto d'ora si è risolta grazie alla prudezza dei suoi due attaccanti. Ma andiamo con ordine, l'undicesimo la prima opportunità da parte del Pratola, calcio di punizione di Vitone, la palla a giro e sfiora la traversa. Due minuti dopo il capitano del Pratola deve abbandonare il terreno di gioco per una sospetta contrattura, al suo posto la Gatta. Ovviamente Di Marzio deve rivoluzionare il suo centrocampo e posiziona Pacena in gabbina di regia. Al quattordicesimo per il Pratola ancora va vicinissimo al vantaggio, il rilancio corto di Bartolomei Dionisi dalla quasi tre quarti fa partire un pallonetto che sfiora la traversa, il portiere era fuori dai pali. Al ventiduesimo c'è un sussulto da parte del Torsicia, la battuta di Fasciocco che sfiora la traversa di Meo. Al ventiquattresimo il Pratola che va vicinissimo al vantaggio, Ponticelli si sograppone benissimo, crosse di prima intenzione dell'esterno pratolano, colpo di testa sotto misura di Palombizio con Bartolomei che smanaccia ed evita il gol. Al trentunesimo ancora il Pratola va vicinissimo al vantaggio con la Gatta che in posizione defilata dopo un ottimo passaggio da parte di Palombizio e li mette al centro anziché tirare e l'azione sfuma. Un minuto dopo è Pacella che effetta un bellissimo tiro a pelo d'erba e ottima la parata di due tempi di Bartolomei. Un primo tempo sicuramente un po' abullico da parte dei Bamboi in colore anche se i nerostellati a tratti hanno fatto vedere delle buone trame di gioco. Nel secondo tempo la formazione nerostellata torna in campo per cercare di sbloccare subito i risultati. Al quinto minuto bellissimo diagonale di Palombizio che serve al centro per la Gatta che a volo effettua un tiro che va di poco a lato. Ma è l'unica fiammata, la gara ha dei momenti di stanco, il pubblico si innervosisce. Al ventisettesimo c'è l'episodio importante del match. Palombizio tendo l'area di rigore anticipa il portiere Bartolomei commette fallo, rigore ed espulsione. È la chiave del match che sblocca il risultato. Al ventinovesimo va Palombizio dal dischetto che batte il portiere Cantagalli che è subentrato a Bartolomei. Col tossici in dieci il Pratola ci prova. Di marcia spostato in dando Delgizzi nel ruolo esterno di centrocampo e la mossa è stata azzeccata. Al trentunesimo il cross molto bello da parte di Delgizzi a volo Dionisi a centro area e battuto il portiere Gandagalli per il 2-0. Gara in archivio e Nero Stellati in delirio. Dunque al trentaquattresimo ancora però il Pratola che va vicinissimo al terzo gol con un'ottima conclusione da parte di Dionisi la palla che sfiori il palo di Cantagalli. Nei minuti finali il Pratola cerca in qualche modo di controllare il match. Il tossici a questo punto fa fatica a costruire il gioco. Al quarantottesimo però va vicinissimo al gol Delgizzi sicuramente lo avrebbe meritato per il gran finale di gare che ha disputato. Dentro la di rigori tiro a volo da parte di Delgizzi ottima la risposta di Cantagalli in angolo. L'arbitro non fa battere nemmeno l'angolo ma le due squadre negli spogliatoi. Si chiude dunque con una vittoria un'ottima prestazione da parte del Pratola che torna al successo Casalingo dopo la gara vinta contro il Controguera di quasi un mese fa. E nel girone B di promozione sconfitta della Pro Sulmona con il vasto Marina per 2-1 in vantaggio dopo 10 minuti con Tuzzi i biancorossi sono fatti pareggiare dopo la mezz'ora nel secondo tempo c'è stata la rete che ha condannato alla sconfitta la squadra di Cau che scende a meno 4 dal capolista Penne. E nel campionato di terza categoria il Pacentro si aggiudica il derby battendo Lovidiana per 4-0 il Pacentro consolida il primato in classifica battendo Lovidiana nel derby di giornata del girone B di terza categoria è stata una vittoria netta da parte della squadra di Pietro Cardilli che squalificato per tre turni segue la gara dagli spalti del Mezzetti. Gli ospiti, seguiti da una buona rappresentanza di tifosi fanno capire subito le intenzioni al primo minuto si avventa sul pallone vuolo che si propone con un tiro dal limite dell'area deviato in angolo da Valeri. Alla lunga si noterà la superiorità del Pacentro ma la prima vera pallagon del match capita all'Ovidiana al nono minuto dopo un assist dalla destra di trafficante ma Kevin Di Giovani cicca incredibilmente non colpendo la palla che avrebbe potuto rappresentare il vantaggio. Il Pacentro prende il sopravvento creando diverse occasioni al ventissimo viene fermata un'azione offensiva per un fuorigioco di Santilli contestato dagli ospiti come altri che verranno fischiati in seguito da Nino Falcone della sezione di Sulmona. Un minuto dopo il Pacentro sfiora il vantaggio con una conclusione di vuolo che colpisce il palo. Al ventiduesimo un diagonale di Edoardo Cucurullo termina fuori al ventiquattresimo la squadra di Cargilli passa in vantaggio con un'azione partita da un lancio di Santilli per Edoardo Cucurullo che entra in area e batte Dicenzo. I padroni di casa continuano a soffrire le iniziative della capolista e al ventottesimo è provvidenziale la chiusura di Lucci che impedisce a vuolo di conquistare la palla del possibile raddoppio. Il primo tempo si chiude con una punizione al trentottesimo dell'Ovidiana di Di Bacco respinta da Epifano. Nella ripresa i Sulmoni si provano a reagire con due conclusioni dalla distanza nei primi dieci minuti rispettivamente di Trafficante e Lavella. Al tredicesimo il Pacentro sfiora il terzo gol con Luigi Santilli che manda la palla ad infrangersi sulla parte alta vicino all'incrocio dei pari. Così come nel primo tempo, anche nella ripresa il gol del Pacentro arriva al ventiquattresimo minuto a seglarlo questa volta Giovanni Pacella. Dopo un corner allontana di testa Lucci ma la palla finisce a Pacella che scarica un sinistro imprendibile per Dicenzo. Il Pacentro potrebbe triplicare ma al ventottesimo un diagonale di Edoardo Cucurullo termina fuori. Al trentunesimo prova un'iniziativa giallò ma viene chiuso ottimamente al limite dell'area da Lucci. Al trentaduesimo Lovidiana resta in dieci per l'espulsione di Aldo Di Cesare autore di un fallo da ultimo uomo su vuolo. Gli ospiti in superiorità numerica incrementano il punteggio. Il terzo gol arriva grazie all'abilità di Edoardo Cucurullo che dopo essersi liberato di più avversari entra in area ed in posizione centrale batte Dicenzo. Al trentacinquesimo esce tra gli applausi il bomber Cucurullo che con la doppietta di oggi è arrivato a quota 18 gol. Al suo posto entra il giovane Gaetano Caraccia classe 98 che dopo sei minuti dall'ingresso in campo si porta il gol in seguito ad una respinta di Dicenzo su un tiro di giallò. I sulmonesi perdono l'imbattibilità al Mezzetti ed il pacentro si riscatta dopo la sconfitta di Lucco dei Marsi e nella classifica aggiornata e avanti di un punto sulla nuova vicecapolista Castronova. Una domenica da incorniciare per la morronese che festeggia la dodicesima vittoria consecutiva ottenendo il successo a Bazzano per 3 a 0 grazie a una doppietta di Matteo Liberatore e un gol di Michele Giallorenzo. L'antagonista Piano l'ha invece ottenuto solo un pari per 1 a 1 con il Goriano. Approfittando di questo risultato la capolista morronese porta il distacco a più 4 dagli Aquilani. Vi ricordo ora gli appuntamenti in prima serata di Onda TV alle 21 lo speciale di Onda DG dedicato alla gara dei Nero Stellati a Pacentro Ovidiana con le interviste del post partita. Alle 21.30 torna il salotto di attualità Nero su Bianco, ospiti Giancarlo D'Alessandro presidente di Coeso e Dante Quaglione economista. E alle 22 non perdete l'appuntamento settimanale con la rubrica Vivere la vita. Racconteremo questa sera la storia di Giovanni Balassone ex ferroviere. Bene, è tutto per questa edizione di Onda TG che torna domani alle 13.30. Grazie per essere stati con noi e a voi tutti lascio la buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.